Benvenuti su Whispers of Wisdom. Se volete sostenere il nostro canale, non dimenticare di iscriverti, attivare la campanellina delle notifiche e lasciare un like a questo video. Oggi vi guideremo attraverso una sessione di rilassamento profondo. Trova la tua posizione ideale. Scegli un luogo tranquillo e confortevole dove non sarai disturbato. Mettiti in una posizione che ti permetta di rilassarti completamente. Mantenere la schiena dritta e il corpo allineato per favorire il flusso dell'energia. Rilassa corpo e mente. Chiudi delicatamente gli occhi e porta l'attenzione sul tuo respiro. Osserva il naturale flusso dell'aria che entra ed esce dalle tue narici. Non cercare di controllare il respiro. Osservarlo e a essere presente. Se la mente vaga, riporta delicatamente l'attenzione sul respiro senza giudicare. Fai tre respiri profondi e lenti, concentrandoti sulla sensazione dell'aria che riempie i tuoi polmoni e poi fuoriesci. Ad ogni respiro, lascia andare la tensione e lo stress accumulati. Permetti a te stesso di essere completamente presente in questo momento, qui e ora. Ascolta le affermazioni io sono. Con il corpo e la mente rilassati, inizia ad ascoltare le seguenti affermazioni io sono. Ripeti mentalmente ogni affermazione con calma e convinzione. Senti come le parole risuonano dentro di te e permetti loro di permeare il tuo essere. Non c'è bisogno di sforzarsi o di analizzare le affermazioni. Semplicemente lasciale fluire attraverso di te. Abbi fiducia che il tuo subconscio sta assorbendo le affermazioni positive. Non preoccuparti se la mente vaga o se hai pensieri intrusivi. È normale. Semplicemente riporta l'attenzione sul respiro e continua ad ascoltare le affermazioni. Io sono forte e resiliente. Affronto le sfide della vita con coraggio e perseveranza, trasformando gli ostacoli in opportunità di crescita. Io sono degno di amore e felicità. Merito di essere amato, rispettato e valorizzato, sia da me stesso che dagli altri. Io sono creativo e pieno di risorse. Possegno un potenziale illimitato e ho la capacità di realizzare grandi cose. Io sono grato per tutto ciò che ho. Apprezzo le benedizioni della mia vita e sono grato per le esperienze che mi hanno reso la persona che sono oggi. Io sono aperto a nuove esperienze e opportunità. Abbraccio il cambiamento e la crescita con entusiasmo, imparando e migliorando continuamente. Io sono in pace con me stesso. Accetto me stesso per quello che sono, con pregi e difetti, e vivo in armonia con me stesso. Io sono fiducioso nelle mie capacità. Credo nelle mie capacità e ho la sicurezza di poter raggiungere i miei obiettivi. Io sono concentrato sui miei obiettivi. Tengo gli occhi fissi sui miei sogni e lavoro con determinazione per realizzarli. Io sono capace di perdonare. Lascio andare il rancore e il risentimento, scegliendo di perdonare me stesso e gli altri per vivere in pace. Io sono meritevole di successo. Merito di raggiungere i miei obiettivi e di vivere una vita appagante. Io sono circondato da amore e supporto. Ho persone care che mi amano e mi sostengono nel mio cammino. Io sono parte di qualcosa di più grande. Sono connesso all'universo e a tutto ciò che esiste e contribuisco positivamente al mondo. Io sono una persona in continua evoluzione. Imparo e cresco ogni giorno, diventando una versione migliore di me stesso. Io sono la luce e l'amore. Porto positività e compassione nel mondo, ispirando gli altri con la mia luce interiore. Io sono tutto ciò che posso essere. Non ho limiti e posso realizzare qualsiasi cosa io voglia. Io sono calmo e centrato. Mantengo la calma di fronte alle difficoltà e affronto le situazioni con lucidità e compostezza. Io sono ottimista e positivo. Vedo il lato positivo della vita e credo nel potere del pensiero positivo per attrarre cose belle. Io sono resiliente e flessibile. Mi adatto ai cambiamenti con facilità e supero le avversità con forza e tenacia. Io sono coraggioso e audace. Affronto le mie paure e mi spingo oltre la mia zona di comfort per raggiungere i miei obiettivi. Io sono pieno di energia e vitalità. Mi sento energico e vitale, pronto ad affrontare ogni giorno con entusiasmo. Io sono concentrato e focalizzato. Mantengo la concentrazione sui miei obiettivi e non mi lascio distrarre dalle cose insignificanti. Io sono disciplinato e motivato. Mi impegno con costanza e dedizione per raggiungere i miei traguardi. Io sono aperto all'apprendimento. Sono sempre pronto ad imparare cose nuove e ad espandere le mie conoscenze. Io sono grato per le piccole cose. Apprezzo le piccole gioie della vita e vivo con un senso di gratitudine costante. Quando sei pronto, prendi qualche istante per integrare l'esperienza. Apri lentamente gli occhi e torna gradualmente alla tua giornata. Porta con te la sensazione di pace e benessere che hai coltivato durante la meditazione. Ma con te la sensazione di cliente in questo video Ma con te la sensazione di chiunque Sta la sensazione di materiale